Il sostegno e l'incremento da parte del governo Schifani del brand Sicilia nel mercato globalizzato continua a essere la stella polare della politica del centrodestra nell'isola. Giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 17, presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, l'assessore regionale alle attività produttive, Edi Tamayo, incontrerà gli imprenditori della provincia nissena e presenterà i bandi bonus Energia Sicilia e Ripresa Sicilia. L'evento, che è compreso nel tour che si svolgerà presso le sedi delle Camere di Commercio siciliane, è stato programmato dall'assessore per incontrare gli imprenditori dell'isola, conoscere le esigenze delle aziende siciliane e presentare le due misure messe in campo dal governo Schifani. Il tour programmato, che parte giovedì 26 dalle sedi di Catania e Messina, è propedeutico per conoscere le istanze e i problemi del territorio attraverso gli imprenditori e le parti sociali, ha detto l'assessore Tamayo, e per dare massima diffusione ai contenuti dei due importanti bandi disposti dal mio dipartimento. Tamayo ha evidenziato altresì come tale finanziamento possa essere un'occasione di sviluppo e di supporto per le imprese attraverso strumenti finanziari finalizzati ad aumentare le capacità di competere nel mercato globale.